Sono state già a suo tempo presentate altre denunzie e quant'altro e quindi è un po' tutto noto. Però certamente ci sono delle novità che lui rappresenterà in questa sede. Naturalmente l'intervento della magistratura sarà quello sempre di Reggio Calabria, il che non è che ci metta molto in allegria a dire la verità, ma confidiamo che l'autorità inquirente di Messina, cheppure sarà investita di alcuni problemi fondamentali, possa dare un contributo adeguato. Il buon giornalismo non può essere mai di parte? Lei ha fatto un attacco abbastanza duro ai giornalisti. Il giornalismo dovrebbe essere obiettività di informazione e soprattutto a completezza dell'informazione. A me pare, per quello che vedo, ma non soltanto qui, a livello nazionale, a me pare veramente che il ruolo fondamentale che potrebbe giocare il giornalismo, soprattutto il giornalismo d'inchiesta, nel nostro Paese, di fronte ad una magistratura incontrollata ed incontrollabile, perché si gestisce da sola, credo che veramente sarebbe toccasana. Purtroppo la situazione è quella che è, non c'è un po' di dubbio, la classe giornalistica è per l'80% serva del potere. Se lei fosse giornalista, come titolerebbe la storia di Cateno De Luca? La storia di Cateno De Luca è l'emblema delle carenze e delle negatività che una magistratura riesce ad esprimere.